Conoscere i nuovi programmi europei e capire quali sono le opportunità di finanziamento per le piccole e medie imprese della Liguria. Una giornata di lavori organizzata da Union Camera in Liguria e dalla Camera di Commercio di Genova. Un'occasione per capire come poter accedere ai finanziamenti offerti dai nuovi programmi Horizon 2020 e Cosne. Abbiamo creato insieme all'Europa, insieme alla Regione, insieme all'Union Camera e questo sportello di questa rete per fornire assistenze e supporto alle imprese interessate ad accedere ai nuovi programmi. Inoltre stiamo facendo un lavoro in campo regionale, insieme alla Regione Liguria e a tutte le associazioni di categoria proprio per fare sì che per la nuova programmazione ci sia la massima circolazione di informazioni e di notizie proprio per sapere come accedere ai finanziamenti. Diciamo che per noi è molto importante riuscire a svolgere un'attività che vada a sostenere il mondo delle imprese. Noi abbiamo una quantità di micro imprese che rappresenta il 90% delle imprese esistenti in Liguria. Questo vuol dire che il 90% delle imprese ha meno di 10 addetti. Ovviamente in queste micro imprese per poter accedere a certi finanziamenti, a certi bandi bisogna acquisire informazioni, strumenti ed elementi e è per questo che questa rete europea per dare questa assistenza e l'attività che a livello regionale abbiamo fatto con il sistema delle associazioni di categoria è lo strumento per far crescere queste imprese e consentire anche a queste imprese di poter accedere a questi finanziamenti.